non li disturbiamo stanno provando li ho chiusi qui da giorni siamo se gre gati qui dentro perché ci stiamo preparando al risveglio dell'umanità ne vedrete delle belle adesso li andiamo a disturbare attenzione potrebbero reagire male perché loro ritornano sempre giusi carreca arianna bassallo nicola nicpuleo acqua nel ria chiara bessani vi consacro la libertà silvia frenda sono la pioggia noemi castronovo ciao emanuele carlino tutte le piaghe sono al sole gabriele ciraolo e flavio neri abbiamo scherzato questa è la compagnia ragazzi veniteci a portare da mangiare da bere troppo arriviamo stiamo provando siamo qui per in tre minuti siamo tantissimi stiamo arrivando per celebrare le albe con voi alla valle dei templi saremo il 14 il 16 e il 23 agosto alla valle dei templi con la compagnia del teatro pirandello alla valle dei templi con la compagnia dei templi con la compagnia dei templi con la compagnia